Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, oggi giovedì 29 dicembre, la Chiesa Cattolica venerà San Tommaso e Davide. Apriamo la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal centro, edizione dedicata a Pescara. Regione, la lunga notte del voto, maggioranza ricompattata, bilancio approvato dopo un duro braccio di ferro. In centro pagina la fotonotizia, baci e abbracci da ricordare, galleria fotografica 2016, l'anno abruzzese in 12 immagini. E poi all'interno vediamo in spalla, sottosegretari, Gentiloni li nomina, fuori Verdini, occupazione, lavoro cresce, soprattutto tra i cinquantenni. Monte Paschi, Orlando apre all'inchiesta parlamentare. Nelle cronache, filovia bloccata, pressing sulla regione, a Pescara ancora balneatore in lutto e morto. Selvio Papa, Montesilvano, ladre in casa, un vicino le fa arrestare. Nel taglio basso la storia, Natale a tavola con i senza tetto, 40 famiglie pescaresi accolgono prove poveri e rifugiati. E poi il mercato, il Pescara stringe per Budimir e Mandragora. Ed ora l'edizione dedicata a Chieti, stessa apertura, in centro pagina anche la fotonotizia. Nelle cronache vediamo case popolari con i muri intrisi d'acqua a Chieti. A Torre Bruna prende fuoco il pulmino dei migranti. E ancora a Chieti, sport, 21 campi nelle mani dei privati. Nel taglio basso San Salvo, accordo Pilton-Mercedes, la fabbrica del vetro produrrà parabrezza. Intelligenti Chieti, questa sera, grande jazz con Aymar e Ottolini. Ed ora l'edizione dedicata a Teramo. Vediamo nelle cronache disastro Ater, lesionate 123 palazzine. Si rompe i polsi a scuola, scatta la denuncia investito da un'auto pirata e grave ad Ancarano. Il Teramo pensa a quattro rinforzi. Nel taglio basso il calcio di Lega Pro, Campitelli pronto a potenziare la squadra a gennaio. Baschetta 2, Roseto stasera alla prova della Virtus. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di L'Aquila. Vediamo nelle cronache, Comune svende i puntellamenti costati. Milioni col center, appello per salvare i posti. La Marsica, Capodanno, niente botti e multe salate. Calcio serie D nel taglio basso. Morcia vince chi è onesto. L'allenatore dell'Aquila si racconta a sei mesi dal suo arrivo. Avezzano troppe antenne, ora scattano i controlli. Pagina del messaggero. Vediamo in apertura stop l'inchiesta sui furbetti a Sulmona. La Corte dei Conti sospende la richiesta d'anni dopo il suicidio di un indagato. Andremo avanti quando la procura penale avrà delineato i profili di responsabilità. In spalla la montagna si illumina contro la nuova emigrazione. E poi la fotonotizia in centropagina. Pescara la rassegna rischia di chiudere la guerra del Festival Jazz. Ancora in centropagine. I terremotati, denunciateci pure, ma non lasciamo le nostre case. A Teramo le 160 ordinanze di sgombero. Il sindaco nessuna alternativa. Chieti trascinato a terra dal rapinatore. Passiamo alla città. Il quotidiano della provincia di Teramo in apertura a cancelli sbarrati e rifiuti del mote. La Team chiede il pagamento di un debito di 553 mila euro accumulato al centro di Carapollo. La fotonotizia resistenti all'ordine. A collaterrato non vogliono lasciare le case sgomberate. Poi, per quanto riguarda il titolo dell'editoriale, il conto delle bretelle. In spalla, Ancarano investe e scappa un altro pirata sulle strade della Val Vibrata. A Roseto degli Abruzzi, mozione dei sottanelliani per la funivia. È vietato vietare i botti di Capodanno, illegittime le ordinanze dei sindaci contro vendita e uso. Nel taglio basso, Teramo Calcio, Campitelli fa il bilancio della stagione insufficiente. Il diavolo si riprenderà. E poi Giulianova, ancora in breve, chiosco delle polemiche già in vendita. Ed ora, passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Vediamo l'attacco tedesco in apertura al piano per Montepaschi. Rispettate le regole, ma l'Italia incalza. La vigilia BCE, più chiarezza. E poi sport e politica, la fotonotizia, ma Putin era all'oscuro. Mosca confessa, doping di massa. L'inchiesta ancora rifugio del terrorista. Amri per mesi fu vicino a Roma. In breve vediamo che cosa blocca i nostri giovani. E poi ancora Veti e Velenze, il letargo sulla legge elettorale. Questo è il titolo dell'editoriale. Nel taglio basso, invece, contro ordine. Il Tarri ammette i botti. Capodanno nella capitale. Sospesa l'ordinanza di raggi. Ne riparleremo a gennaio. Dopo George Michael, le spalline, la disco e i lenti. Noi felici negli anni 80. Questo è il titolo dell'articolo all'interno. Ed ora la Repubblica, più possi ma meno stabili. Come cambia il mondo del lavoro? Continua il calo fra i giovani. Boom dei voucher. Verso la proroga dei 40.000 contratti nella pubblica amministrazione. Diritti rinnovati per i vincitori di concorso. In centropagina, noi volontari italiani in marcia su RACCA. Questo è il titolo della fotonotizia. La brigata internazionale che combatte con i kurdi contro il califato. La polemica. Meglio l'odieto buono che l'impiego in nero. L'analisi, le banche da salvare, la povertà dimenticata. L'intervista in spalla. Vediamo il Capodanno con Duma, la mia musica. Come le vertigini, ha dichiarato il musicista. E ancora, per quanto riguarda i titoli e poi gli articoli all'interno, sulle colonie controfinale, fra Israele e USA. E ancora Emilia, i sindaci rossi, sì alle ronde, anti ladri, Facebook editore e i rischi per la rete. Il messaggero Amri scoperta la base a Latina, il killer del mercato di Berlino, ospite per quattro mesi di una famiglia italo-tunisina, svelata la rete nel Lazio, perquisite due abituazioni, decine di persone sotto Torchio. E la tragedia a Roma, vediamo una fuga di gas, un attimo che riprendiamo la notizia, dicevo una fuga di gas nel Mirino, alcuni immigrati, la tragedia a Roma, un boato e la casa è venuta giù, mamma e figlia uccise dal crollo. Le vediamo nella foto e ancora vediamo il salvataggio dei Montipaschi, il giallo di Bruxelles, nessuno sconto, la commissione insiste sugli 8,8 miliardi e Berlino attacca l'Italia rispetti le regole. Raggino del Tar salta il divieto a botti e fuochi e Roma perde un'occasione. E poi la nuova IAD, la svolta Isis, trovare soldati tra i criminali. Il giovane salvo per caso, lo shock del fratello, per quanto riguarda la notizia in centropagina della tragedia a Roma per una fuga di gas, il fratello, dimmi che non è vero, ha detto dopo essere stato salvato dalle macerie. Allarme meningite nel taglio basso, psicosi e contagio si combattono. Con l'informazione e poi l'intervista, Orlando, meglio il proporzionale, ha detto per quanto riguarda il salvataggio di Montipaschi. Il fatto quotidiano in apertura a Montipaschi ancora, sistema Italia a rischio, il governo non dice nulla, i silenzi di Stato, il crollo della banca può provocare il collasso del nostro credito. Renzi salvato dal referendum, così si è liberato del crack di Siena. E poi impuniti, sei mesi di bugie, il bluff di Morelli, le colpe di Padoan. Costi salati in centropagina, la rivoluzione digitale, lo Stato spende 3,2 miliardi per la carta, i comuni sprecano in cancelleria, 359 milioni, la polizia 100. E poi la soffiate le accuse a Matteo, Luca, Marroni e Bannoni contro Renzi e Lotti, Giglio a pezzi. Eroi sciocchi, iragelo, i quattro cavalieri dell'imbecillità, quanto riguarda i titoli degli articoli all'interno, ancora la follia del TAV, il governo che non ha capito, i 19 milioni di no. E' arrestato il diplomatico cazzacco del sequestro a Chalabahieva e poi nel taglio basso ancora le paure meningite. Vediamo il terrore di mamma nella notte, il whatsapp dei genitori già freme. Casa Monte Carlo prese 739 mila euro, indaga la moglie di indagata, la moglie di Fini. La stampa Israele e Russia, l'affondo di Obama, scontro con Trump su Gerusalemme, si infiamma il clima della successione, Washington critica Netanyahu per gli insediamenti, in arrivo sanzioni a Putin, ingerenze sul voto americano. E poi l'allarme terrorismo capodanno blindato, la linea dura di Torino, Metal Detector in piazza, tutti possiamo contribuire a una società più sicura. E il titolo dell'editoriale in centro pagina, dai libri alla TV, ecco il cartellone del 2017, romanzi e saggi in uscita, i programmi di intrattenimento, le serie televisive più attese dal pubblico. Nel taglio basso il caso, lusso, wifi e ristoranti, così l'ostello fa il pieno e poi l'inchiesta, la banca dati delle multe che ci racconta la città. Passiamo al mattino, crolla palazzo vicino a Roma, madre e bimba tra le macerie, l'esplosione ad acilia per una fuga di gas, estratti vivi due anziani, il racconto, piccola Aurora, ci sei, la speranza, si fa, silenzio. E' ucciso dalla febbre a 18 anni, scata l'allarme meningite, la tragedia a Castella al Mare, oggi vertice in regione, 30 casi nel 2016. L'esperto, meno paura e più vaccini, così si ferma la malattia. Italia, Portofranco del Killer, preso il complice a Berlino, capodanno blindato, 700 agenti a Napoli, il terrorista Amri per quattro mesi a Latina, dopo aver lasciato il chile di Caltanissetta con un decreto di espulsione mai eseguito. L'analisi, i criminali che diventano terroristi e poi il titolo del focus, permessi soggiorno, la pista dei falsi tra Sesto e la Sicilia. Lo scandalo doping, la Russia ammette ma non cambia, la famiglia, sposi per sempre, se per il Papa ci vuole coraggio. Nel taglio basso vediamo Montepaschi, paletti della Germania, Berlino e BCE e UE, assicurino che Roma rispetti le norme. E poi ancora Pavoletti, un giallo a lieto fine, viste in ritardo, poi arriva l'ok, oggi il test sul ginocchio. Il giornale, vediamo, rischio stangata, pre con Montepaschi, per salvarla ci aumentano l'IVA, l'Italia non cresce, la UE ci obbligherà a nuove tasse. E poi ancora le follie del buonismo, 5.000 morti in mare, ISIS, polizia nel mirino, migranti si chiude un anno da record. In centropagina la fotonotizia, un passo dalla distruzione, non rottamare il treno del Duce, un relitto dell'Italia in viaggio. Gentiloni, Tidura di Luca, dimensiona la Boschi, due schiaffi a Renzi, e ancora vince con Lega e Fratelli d'Italia, e poi Botti di Capodanno, il Tar decide il 25 gennaio, bloccata l'ordinanza a Roma. Nel taglio basso vediamo la truffa riscaldamento globale, quante balle su questo dicembre caldo, così il titolo. dell'articolo. Il quotidiano indipendente, il tempo invece apre con il comune di sangue le imprese, i costruttori reclamano crediti milionari nei confronti del Campidoglio, non pagano da tre anni a Roma nel 2016, hanno chiuso i battenti, oltre 3.000 attività, 14.000 negli ultimi cinque anni. E poi la fotonotizia che titola Fuochi Fatui, dal Tar del Lazio, altro schiaffo alla Raggi, sospesa l'ordinanza contro i Botti di Capodanno. In spalla vediamo, ad Acilia, forse una fuga di gas, esplode Palazzina, ritrovate morte mamma e figlia, ad Aprilia la base italiana del terrorista di Berlino, e ancora no di Gentiloni, ad Ala, Zanetti, amareggiato, lascia. Giallo alle porte di Roma, due sedicenni di Acilia, scomparse da tre giorni nel taglio basso. Vediamo, siate fieri delle divise italiane, in risposta a chi le attacca, sempre il discorso del generale Bertolini. L'unità, appello PD, in apertura, basta perdere tempo, il vice segretario Guerini, se c'è volontà di un'intesa sulla legge elettorale, deve emergere ora. Però crescono i no alla proposta DEM, ma Rosato avverte, senza accordo, si va al voto. La fotonotizia, il viaggio, inchiesta dei radicali nelle carceri. Rita Bernardini, dietro le sbarre, come con Marco. E ancora crescono gli occupati, ma non fra i giovani. Oltre 500.000 posti in più calano gli inattivi, il boom dei voucher. In spalla vediamo i titoli dei redazionali all'interno, Dolci Baci e Languide Carezze, ed ancora Sfida Spagnola ai 5 Stelle. L'accordo fra Russia e Turchia sulla tregua in Siria, e ancora perché la democrazia non sarà rigenerata con un click. Passiamo ora al Libero, l'inchiesta di Libero in apertura, che titola Euro, più ne capisci, meno ti piace. Abbiamo intervistato autorevoli economisti, banchieri, dirigenti pubblici su Moneta Unica e UE, anche gli europeisti più convinti, hanno espresso critiche durissime, ecco come ci siamo trovati in braghe di tela e come si può rimediare. In centropagina vediamo il PD, vuole già mandarlo a casa, orfini si fa la legge elettorale o si vota ora, l'intesa Renzi-Salvini è partita. Ha solo debiti ma assume nuova infornata della Raggi, fa soltanto quello. Nel taglio basso vediamo, suona bene la pianola in negozio, i dipendenti gliela regalano, non se la poteva permettere. Avvenire in apertura il fatto, sfruttati in rivolta in Bangladesh, scioperi e licenziamenti di massa di lavoratori che producono la moda occidentale. E poi lo scontro Obama-Israele, Trump con Netanyahu. L'udienza circense del Papa, la fotonotizia in centropagina, si prega in molti modi, ha detto il pontefice. E poi l'intervista, il generale Graziano, missioni di pace per battere il dash. Ed ora il gazzettino, economia in apertura, Montepaschi, la web non molla, niente sconti, questo è il titolo, Bruxelles difende la richiesta della BCE per il salvataggio, non si discute l'aumento da 8,8 miliardi. E poi dopo la poca neve, il forte vento, bloccati gli impianti a Cortina, il caso denunciato Ioregeni, faceva troppe domande, ha treviso, Zara la fiaccolata contro i profughi nell'ex polveriera. E poi la strage, il terrorista in fuga, aveva una rete a due passi da Roma, la svolta dell'Isis ancora, reclutare tra i criminali. Ex popolari, nel taglio basso, Veneto Banca, venduto in saldo, il jet, costato 10 milioni, ceduto per la metà. E poi Regione Veneto Lavoro, i documenti del concorso, vanno in procura. Il manifesto, lo Stato della Palestina, così il titolo della fotonotizia in apertura, il segretario di Stato, contro colonia destra israeliana, gli insediamenti sono il vero ostacolo, ha detto alla soluzione dei due stati, e la rabbia di Netanyahu e Trump twitta, Israele, tieni duro, il 20 gennaio si avvicina. Almaviva, l'azienda non cede sui licenziamenti, chiude la sede di Roma, 1666 esuberi, lavoro under 35 nella palude del Job Act, ma il governo gongola, l'Italia cresce. E all'interno vediamo i titoli, centrosinistra Renzi e l'idea di primarie, con Boldrini, e ancora Olimpia di Mosca ammette, doping sistematico a Berlino, arrestato amico di Amri, indagini a Roma. Il lavoro, infine, il referendum sull'articolo 18, può essere ammesso. Il secolo XIX, vediamo gli ultimi schiaffi di Obama, a scontro con Trump su Israele, e sanzioni alla Russia, ingerenze sul voto USA, il presidente americano uscente accusa Putin e Kerry, irrita Netanyahu. I piccoli profughi e la magia del cinema, un anno di immagini, fatti e volti del 2016, così titola la fotonotizia. E ancora, vediamo il caso, il titolo, gli adolescenti soli al veglione, e i diritti dei genitori. la polemica, albergatori liguri sulle barricate, contro l'accordo regione. Il terrorismo, ancora due arresti a Genova, sono albanesi trovati con documenti falsi, mentre ripartivano per Londra. Fermato a Berlino, il complice del killer, caccia a un basista in Italia. Il caso, nel taglio basso, bocciato l'algoritmo, che misura la reputazione, no, del garante, la banca, dati online, viola la dignità delle persone. La gazzetta del mezzogiorno, vediamo ancora, Gentiloni chiude il cerchio, completata la squadra di governo, oggi l'annuncio e le deleghe, verso la riconferma, la nuova Cassano, Dombia e Scalfarotto. Il racket sulla criminalità, parchi eolici, due canosini, i boss, ride a colpi di Mitra. E ancora in sua occupazione, fiducia, famiglie si può fare di più, meteo pazzo di fine anno, effetto nevicata su Bari, fitta grandinata, e al nord mai un caldo così. Passiamo alla verità, in apertura i trucchi dei manager, pubblici per tenersi gli stipendi d'oro, dai vincantieri alla Tg1, un'azienda di Stato su tre, non rispetta il tetto di 240 mila euro l'anno, per i compensi, alcune sfruttano le quotazioni in borsa, altre mettono bond, e così si arriva a retribuzioni, che sfiorano i 3 milioni, inchiesta a Compiz, in centropagina la fotonotizia, accuse al padre di Renzi, dall'ex tesoriere del Partito Democratico. E poi Rai, gay all'ora di cena, con i placet di chi vietò il film, Cristiada, leone figlio dell'ex capo dello Stato, poteva fermare il programma shock di Rai 3, a Taciuto. E ancora, nel taglio basso, la verità non sconfigge mai un bel pregiudizio, i dati falsi che ci riempiono la vita. Ed ora, ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, per il consueto appuntamento, con le previsioni del tempo, e quindi con Luca Mennella, di InMeteo.net. A tra poco. Eccoci rientrati, la seconda parte di Mattino 6, passiamo alle pagine interne dei quotidiani regionali, abbiamo visto l'apertura del Centro, l'edizione dedicata a Pescara, vediamo in primo piano all'interno il Consiglio regionale, bilancio è fatta, ma che sofferenza, voto solo a tardanotte, un patto d'onore nella maggioranza. In sella all'Arta, ancora sale Chiavaroli, finisce l'era amicone all'Agenzia per l'Ambiente, e Mazzocca smentisce i tagli. La lezione della consulta, i diritti prevalgono sui conti, le motivazioni della bocciatura della legge regionale sul trasporto dei disabili, diventano un caso nazionale, il Movimento 5 Stelle, nessuno potrà più dire che i soldi non ci sono. Ed ancora l'occupazione, il report IMS-Istat, il lavoro cresce soprattutto tra i cinquantenni, nel terzo trimestre dell'anno, 543 mila posti in più, i voucher toccano quota 109 milioni giovani al palo. e poi sottomesso ai buoni a tempo, laureato in ufficio per 7 ore al giorno, a redigere il business plan dell'azienda. La situazione regionale, in Abruzzo la ripresa è debole, ma continua la corsa ai voucher, abbiamo visto, e ancora vediamo, IMS, conti in rosso, meno 6,1 miliardi attesi nel 2017, sisma, ok, contributi alle aziende agricole, in 50 si dividono, circa 150 mila euro. E sempre in primo piano, baci e abbracci 2016, il calendario, vediamo della regione, queste le foto, per quanto riguarda i 12 mesi dell'anno nuovo, con tutto quanto è accaduto in Abruzzo. Vediamo l'apertura, con il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi, e il ginobile del volo, e poi tante altre immagini, Orlando e Bruno con Cirinà tirano diritti, poi ancora vediamo le religioni, il dialogo forte e ortodosso, di Tonno senti che musical, e poi Mattarella muove l'alfiere, e ancora Chiavaroli, questa regione è proprio un film, Abruzzo e Molise, una storia senza frattura, la Teramo per Pannella è qui la festa, e ancora vediamo la Padula, il Bomber esplode a Milano, il calcio a 5, ragazze davvero in palla, poi novembre, intesa perfetta, Razzi va sempre al massimo, e a settembre in Brasile, l'argento ha fatto centro, e questi 12 mesi dell'anno che sta per lasciarci. I nodi della politica, abbiamo visto per quanto riguarda il nazionale, sui botti il tar boccia raggi, nella capitale sì ai fuochi, passiamo alle notizie della regione, negozi, confcommercio, ecco la ricetta anticrisi, credito agevolato, ammortizzatori sociali, politiche mirate, ma la regione si sbrighi a darci delle risposte certe, l'anno dei negozianti, vediamo i dati, meno 5 mila imprese, tra il 2015 e il 2016, e il meno 35% delle vendite a dicembre 2016. Autostrade, moratoria sui rincari, Melilla lancia la proposta, ed invita a scrivere al ministro, la CNA aderisce. Ufficio scolastico, nel taglio basso, bocciata la nomina della dirigente. Ed ora pagina dedicata a Pescara, la regina delle incompiute, la filovia in un vicolo cieco, rebus sui mezzi da usare, dopo 25 anni, nessuna certezza, e il comune si appella alla regione. Decisione subito, la denuncia, vediamo Ferrante, mai tolte le barriere, anti disabili. Ma restiamo sulla incompiuta di Pescara, appunto, e quindi sulla funivia, e la polemica che c'è in atto in questi giorni, sulla incompiuta. Vediamo il contributo video di Francesca Romana Testi. Filovia ancora senza destino a Pescara, dopo i lavori per l'inserimento dei pali e il manto stradale, resta tutto fermo, intanto si discute su come sostituire i mezzi, che sarebbero dovuti essere realizzati da un'azienda ormai fallita, unica a realizzare quel particolare tipo di ibrido. Nel frattempo scatta l'emergenza smog, e le associazioni cittadine sottolineano l'importanza di poter vietare la viabilità su alcune arterie cittadine ormai giunte sopra i limiti massimi consentiti. Sull'atteggiamento della Filovia il centro sista non è mai stato chiaro. Da una parte andava a braccetto con gli oppositori della cosiddetta strada parco, dall'altra però firmava gli atti più importanti. Ricordiamo che proprio Renzetti, allora presidente del GTM, di nomina Chiara PD, fu quello che firmò gli appalti più importanti per il completamento della Filovia, che purtroppo non è mai stata completata. Dall'altra però, Sorgentone si deve in consiglio comunale nei banchi del PD. Ecco, questo atteggiamento schizofrenico è il peggio che si possa avere. Noi crediamo una decisione chiara, una posizione chiara, che abbiamo sempre avuto e correntemente. Siamo sicuri che la Filovia è l'unico strumento per alleviare le sofferenze di questa città che è ormai martoreata dallo smog, dall'inquinamento e dal traffico, ma porterebbe grossi benefici anche al commercio perché la viabilità in centro ormai è satura. Corso Vittorio, che doveva essere un'isola falice, è diventata un'altra isola di smog e quindi non c'è altra soluzione. Se poi ascolto che l'alternativa possibile è quella di utilizzare i mezzi vecchi dell'Atac, allora dico ecco la montagna, parto di il topolino. E dico attenzione ai cosiddetti oppositori della Stata Parco perché chi gli sta dicendo che lì non passerà la Filovia, li sta prendendo in giro perché il rischio ci passerà qualche mezzo e sarà di gran lunga peggiore di quello che potrebbe essere un mezzo ecologico e non inquinante al dispetto alla fine di tutti quanti, anche del buonsenso. E vediamo i comitati. La strada Parco resti libera, dicono, è una via verde, i filobus passino altrove. Penne, ospedale fermo da 40 anni, con la beffa degli espropri, ma è ultimato il complesso sanitario del Carmine per i malati psichiatrici, ma il comune deve risarcire 780 mila euro agli eredi dei proprietari del terreno. All'Oreto anche le scuderie da completare, attesi i lavori del Museo Antiquarium, interrotti dal sisma del 2009 e al Parco archeologico. Andiamo ancora avanti, vediamo geriatria in difficoltà, trasferiti otto pazienti, blitz del Nassa anche all'ospedale San Massimo di Penne, scoperte infiltrazioni d'acqua e pareti scrostate in tre reparti. Spettacolo al massimo, raccolta fondi per la Croce Rossa di Pescara. Ed ecco il promotore che deve tutelare i diritti degli anziani è l'ex dirigente regionale Loretta Tobia. Nella foto, termosifoni accesi due ore in meno, il sindaco firma l'ordinanza anti-smog, la temperatura non può superare i 19 gradi. Personale per il comune, pronte le graduatorie per la mobilità. E ancora addio a Selvio Papa, caposipite dei balneatori, papà del noto cavarettista Marco, aveva 86 anni per oltre mezzo secolo, ha guidato lo stabilimento che portava il suo nome, funerali oggi a Sant'Andrea. Cambi in questura, vanno via pretesi, e labbro Francia, e ancora sulla Tiburtina, un monumento dell'aviatore sul rondò intitolato a Sirolli. Stop al traffico, l'uscita da scuola, ok alla bretella, sulla strada Parco, passa il progetto per collegare via Ravasco a via Vittorio Veneto. La storia di Natale, pranzo a casa con i poveri, per 40 famiglie pescaresi, successo dell'iniziativa organizzata dall'Arcidioce, si aggiunge un posto a tavola, una coppia, abbiamo invitato i nostri ospiti africani, anche a Santo Stefano. Caritas, più volontari alla mensa, il 25 serviti, meno pasti. Evento con Lail, i Babbi Natale Sevel, all'ospedale, l'azienda di Atessa, ha portato Duni a onco-emotologia pediatrica, e anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di questa bella iniziativa. È Natale anche in ospedale a portarlo una delegazione di lavoratori della Sevel di Atessa che con tute da lavoro e cappellini rossi sono entrati in punta di piedi nel reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara per portare Duni e distrazione ai bimbi ricoverati. Questo penso sia un valore importante soprattutto per fare in modo che i bimbi non interrompano la loro quotidianità e quindi possano continuare a vivere il Natale come lo vivono a casa, cioè ricevendo dei regali e incontrando anche persone che vengono da fuori. L'augurio che noi diciamo sempre è quello che fino ad adesso guariscono indicativamente l'80-85% dei bambini. Io penso che l'augurio che a volte sembra un'utopia ma invece quello che vogliamo raggiungere è raggiungere la cifra a tre zeri, cioè che tutti si possano curare. Un gesto che si ripete da tempo spiega il presidente dell'AIL di Pescara, un pensiero costante a chi non può vivere le feste nelle proprie case e in famiglia. Una famiglia allargata che cerca di far sentire il suo affetto anche in corsia. La Sevel ha con noi un rapporto molto particolare, ha fatto anche tanto nel passato per cui ogni anno si ricorda che esistono anche i malati di ematologia. È stata una cosa spontanea, noi non abbiamo sollecitato nessuno, sono loro che di loro iniziativa mi hanno contattato, noi vorremmo venire in ospedale e portare il Giofatti. Benvenuti. Una delegazione di lavoratori? Sì, c'è la responsabile delle relazioni esterne e poi un gruppo di lavoratori, credo che sia un coro, adesso non lo so in particolare. Vediamo ancora San Giovanni Teatino, i dipendenti devono ridare le indennità al Comune. la Corte dei Conti torna a indagare sui circa 500 mila euro erogati dall'ente per promozioni non dovute, ma la cifra potrebbe dimezzarsi. C'è pagati in lutto, addio a Chiulli, marito del sindaco e noto assicuratore, spoltore, 2 mila persone per il coro folk, la performance diretta dal maestro Di Domenico nel santuario della Madonna di Loreto Marche. Ai domiciliari a Francavilla stava a spasso per la città, Francavilla ancora, il 2017 di Alfaville, tra film e incontri sul cinema, a scuola il programma dell'associazione. E domani, sempre a Francavilla, ricordo dei caduti di Santa Cecilia. Ed ora, pagina dedicata a Montesilvano, vediamo il turismo degli eventi, il business dei convegni e delle manifestazioni, palacongressi che affare incassi per 100 mila euro. Con il ritorno della gestione al comune, la struttura è una gallina dalle uova d'oro, ma l'amministrazione vuole riaffidarla ai privati, abbiamo problemi burocratici. La maxifesta, capodanno, l'edificio si trasforma in discoteca. Per le scuole il palazzo resta gratuito, così si aiutano le istituzioni. E ancora nel taglio basso, si all'ampliamento del cimitero. Il Consiglio approva l'esproprio di un'area di 2500 metri quadrati in via Togliatti. Ladre arrestate in un palazzo, a Montesilvano cittadino, vede due donne forzare il portone e chiama i carabinieri. Scuole di legno incompiute, cordo, ma non è colpa mia. Montesilvano, l'ex sindaco, lancia accuse dopo il dossier del Ministero, opere fermate dai miei successori. Oggi i due istituti sarebbero necessari. E poi la polemica pianella. D'amico, la viabilità è sicura. Filippone è fermo a 30 anni fa. Nel taglio basso, vediamo, nascono gli orti sociali curati da pensionati e disoccupati, lungo via Vestina, Montesilvano appunto, e premio a Tassone, 50 anni di musica, sempre a Spoltore. Servizi sociali, anziani disabili, sventata la paralisi dell'assistenza, un passo dalla scadenza, la Regione dice sì alla proroga per la Samida, altre mesi per affidare la futura gestione. Zaccagnini, burocrazia dannosa. Battuta sugli agrari, polemica sud Alfonso, il Presidente della Regione ironizza sui periti di Alanno e di Benigno, si infuria, ora ci chieda scusa. Il Babbo Natale della Salute nelle scuole, la Lega contro i tumori, insegna la corretta alimentazione ai bambini di Passo, Cordone e Saletto. Chieti si incendia, il pulmino dei migranti, Torre Bruna e il mezzo prende fuoco sulla provinciale, il conducente in salvo. Parabrezza intelligenti, creati a San Salvo, permettono di salvare vite umane perché segnalano pericoli a chi guida la fabbrica abruzzese assume 63 giovani. Toleranza zero, test alcolico anche a chi si rifiuta di farlo. E poi vediamo il grande jazz a Chieti, Aymar Ottolini e il premio a fumo al Winter Festival, in scena la musica del film di Buster Keaton. Pagina dedicata all'Aquila, vediamo in apertura sul Mona, il saluto dei compagni di classe, ricordi di scuola con Fabrizia, ecco l'ultima lettera degli amici, gli ex studenti del liceo linguistico dedicano pensieri alla giovane uccisa nell'attentato di Berlino, lottavi per l'integrazione ed eri bellissima, le nostre foto da oggi. Mancherà un tassello. E tra la lettera, vediamo, già allora studiavi perché volevi partire, questa è una delle dediche dei compagni di scuola, se sempre è stata la ragazza del Pace & Love, dei sorrisi e delle pashmine, alla moda. Melilla al Ministro, salvare il call center, interrogazione sulla commessa dell'Inps, è un servizio fondamentale svolto da 560 operatori. Teramo, l'incubo terremoto, Ater, cifre da disastro, lesionate 123 palazzine, segnalazioni per danni in 1382 alloggi popolari da Valle Castellana a Roseto su 36 edifici controllati. Finora 32 sono inagibili, sgomberate 413 abitazioni. E lo abbiamo visto anche nella giornata di ieri, la situazione più contestata è quella a collaterrato alto. Vediamo appunto il contributo video di Tania Bonici Castelli. Sta per essere notificata, sorpresa, a 29 famiglie terramane, l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi riguardante 32 appartamenti a collaterrato alto di proprietà dell'Ater. La decisione è stata presa dopo l'ultimo sopralluogo effettuato dalla protezione civile che avrebbe rilevato danni post-sisma compatibili con l'inagibilità. Una storia surreale, tutta italiana. Questi 32 appartamenti di edilizia popolare oggi dichiarati inagibili hanno appena tre anni di vita. Costruiti nel 2013 con fondi pubblici e con sistemi antisismici sono stati affittati come immobili di categoria superiore doppia A. E invece, nonostante i doppi controlli strutturali effettuati subito dopo il terremoto di ottobre dai vigili del fuoco che avevano ritenuto sicura la struttura, arriva l'ammazzata della protezione civile che dice tutti fuori. Ma com'è possibile? 32 appartamenti tutti inagibili, tutte le famiglie fuori, ma che cosa è successo? Per i vigili del fuoco eravati in sicurezza e adesso non più? Beh, perlomeno, cioè come hanno detto, la protezione civile dobbiamo scomperare, stiamo aspettando l'istanza che ci fa il sindaco e poi, non so, perché per i vigili del fuoco sono venuti tre pattuglie, eravamo, cioè, in sicurezza. E cosa ha trovato la protezione civile che non va? Ma adesso, cioè, io non posso pronunciarlo perché l'istanza dal sindaco ancora ne è arrivata, appena arriverà il sindaco, però, si vocifera che, cioè, per semplici lesioni stiamo andando fuori. Semplici lesioni che vuol dire strutturali? No, 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 perché la struttura ha tenuto sia le travi che i pilastri, cioè, il resto è solamente lesioni di tamponamento e intone, qualche un po' di intone che è andato giù. Signora Vilma, com'è dentro casa sua? La mia non ha fatto niente, solo nella porta scorrevole, il vuoto, diciamo, un po' di cemento, la pittura, la cameretta di mio figlio. Quindi questa inagibilità le sembra esagerata? No, da me no, ai primi piani forse qualche cosa di più, ma da terzo e quarto piano non c'è danno. Lei adesso come si sente dover lasciare casa? È male, ci sentiamo male, anche perché io ho i miei problemi, diciamo, di ossa, di tutto. Ho un figlio che vive con me, ho i nipotini, i piccolini, mia nuora lavora e quindi mi devo oppure occupare dei bambini. Lasciarla a casa, stupidamente, non è giusto. L'angoscia degli inquilini aterdi con l'atterrato è palpabile. Si chiedono se mai la protezione civile avesse esagerato, ma se non lo avesse fatto, allora il problema sarebbe gravissimo, vorrebbe dire che dentro quei pilastri c'è sabbia invece del ferro. Passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, abbiamo visto la prima pagina all'interno, la pagina dedicata alla regione, bilancio da regolamento di conti, oltre al disavanzo ballerino da 770 milioni di euro, ballano anche i numeri di maggioranza e opposizione. Maggioranza, prima di passare al voto d'Alfonso, è costretto ad attendere l'accordo con i tre dissidenti interni opposizione. Da sospiri di Forza Italia partono bordate contro D'Ignazio del nuovo centrodestra che ancora una volta salva il numero legale. E poi la nomina, vediamo Francesco Chiavaroli alla guida dell'Arta. Nel taglio basso la sentenza, la consulta boccia alla legge regionale sul trasporto degli studenti disabili per la Corte Costituzionale. Viene violato l'articolo 38 della carta che riconosce il diritto dello studio per tutti. E ancora riparte la crociata contro il caro Pedagi. Il deputato di Selme Lilla chiede al ministro del Rio di bloccare gli aumenti sulle autostrade abruzzesi per strada dei parchi. Classificata come autostrada di montagna, il pedaggio è più caro e gli aumenti più alti. Protezione civile, allerta meteo per nevicate a bassa quota e mareggiate. E ancora Teramo, cancelli sbarrati per i rifiuti del mote. la Teramo Ambiente di Fida e il consorzio dei comuni montani per un debito di 553 mila euro non saldato. L'ultimatum i cinque giorni concessi dalla D. Team Ranalli per onorare il debito sono scaduti. Ieri sarà un'altra battaglia legale, ha detto appunto l'amministratore delegato. Istituti in ballo, banche in Abruzzo guardano tutti al governo Gentiloni, Carichietti, riforma della BCC e trasformazione in spa della Popolare di Bari. I danni del terremoto abbiamo visto il contributo video, vediamo il titolo del quotidiano con l'atterrato iniziato l'esodo dalle case popolari. In 350 devono lasciare le palazzine classificate in B ed F in tanti non vogliono saperne di lasciare casa. La misura regionale anticipati i fondi agli agricoltori colpiti dal terremoto. 50 domande per i fondi PSR liquidate dall'80% in deroga al blocco dei pagamenti. Ed è emergenza sociale con 1768 sgomberati. Il lavoro della protezione civile è fermo ma proseguono le notifiche del comune. Cambia tre insegnanti di sostegno in tre mesi. Scuola d'Alessandro e diritto alla continuità per un'alunna autistica sacrificato sull'altare dei diritti del lavoratore. Anche nel terramano controlli del NAS nelle case di riposo e poi il titolo dell'editoriale del direttore e il conto delle bretelle. Il ruzzo proroga le bollette ritardatarie fatture consegnate già scadute per colpa delle poste termini di pagamento spostati al 10 gennaio e niente mora. Via De Gasperi ennesimo incidente alla colonnina via Delfico ennesimo blackout in centro. Vietato vietare i botti di capodanno il ministero dell'interno ai sindaci legittimo bloccare la vendita e l'uso dei fuochi con il marchio c'è Natale degli sportivi c'è in partenza per un viaggio di solidarietà ed ancora provincia Campli ha di nuovo il suo municipio terminati lavori di messa in sicurezza di Palazzo Farnese dichiarato inagibile dopo il terremoto Isola si apre una voragine al marciapiede del terminal di San Gabriele ancora problemi per i lavori realizzati in occasione del giubileo del 2000 e già compromessi da usura e incuria Crognaleto la croce rossa Garibaldina in sostegno dei cittadini di Frattoli il colonnello Mario Pellegrini incontra il sindaco D'Alonso per donare generi alimentari e di prima necessità un altro pirata sulle strade vibratiane investe un 46enne sulla bonifica e scappa senza prestare soccorso al ferito il pirata è fuggito dopo aver travolto un ascolano sceso dalla sua macchina per un guasto il bando affidato l'incarico per il nuovo piano spiaggia di Alba Adriatica Civitella del Tronto folla e commozione ai funerali di Gabriele Cosenza a Corropoli il d'annunzio chiude un anno ricco di soddisfazioni va avanti anche la Winter School con corsi gratuiti per gli studenti delle medie il chiosco delle polemiche subito in vendita la struttura la struttura di via Matteotti è stata inaugurata appena la scorsa estate a Giulianova contro la realizzazione del chiosco nella zona verde erano in sorti Arboretti e Cinque Stelle il bilancio questa mattina il bilancio di fine anno di Mastro Mauro è ancora la Lega del Cane difende il gattaro del cimitero e lui ad occuparsi dei felini ma non c'entra nulla con la scomparsa degli animali e ancora si ripete il rito tradizionale dei cantori della Stella a Giulianova sempre ed ora ancora vediamo a Roseto degli Abruzzi una mozione per avere la funivia a Roseto Nugnes e Marcone preparano il documento da portare al prossimo consiglio tempi serrati l'idea potrebbe essere discussa dall'assise civica già durante la prossima seduta sempre a Roseto ha approvato il piano di lottizzazione Macarca prevista la realizzazione di 20 palazzine un hotel di alto livello e un parco e via ai lavori per demolire la guglia del campanile a Montepagano parte da Pineto invece il progetto contro le dipendenze la mozione sempre a Roseto degli Abruzzi la maggioranza PD boccia i consigli di quartiere niente da fare per la proposta presentata dai consiglieri di casa vicina ed ora passiamo al messaggero abbiamo visto la prima pagina dedicata alle notizioni nazionali anche la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo quindi vediamo all'interno magari le prime pagine dedicate alle quattro province andiamo direttamente alla pagina dedicata alla provincia di Pescara che apre con scoppia la guerra del festival jazz Pescara Abruzzo annuncia l'addio all'ente manifestazioni che senza un socio privato rischia di chiudere i battenti la gestione diretta della rassegna più antica e prestigiosa e la condizione posta dalla fondazione per la marcia indietro e il garante ecco il difensore civico degli anziani l'incarico è del comune passiamo entriamo all'interno vediamo sicurezza stradale il concorso lampo bando semi clandestino del comune per il reclutamento di due tecnici e un comunicatore in carichi da 100.000 euro tra Natale e Capodanno la richiesta delle candidature un solo giorno utile per stilare le graduatorie entro il 31 e nasce la controstrada progetto anti-ingorgo per via Ravasco ordine contro ordine limite ai termosifoni mentre arriva il gelo crepe infiltrazioni l'ospedale dipende nel mirino del nas abbiamo visto ancora operazione Capodanno cenone ballo e centro benessere pienone in vista a Montesilvano l'impresa il giro d'Italia a piedi del volontario Avis il traguardo Montesilvano in arrivo 32 orti urbani per gli anziani il progetto tangenziale un nuovo svincolo anti-ingorghi l'Aquila l'accordo Fonix in Vitalia ora vuole vederci chiaro pesante l'atmosfera nello stabilimento al momento sono accessibili solo gli uffici impossibile ottemperare alle prescrizioni visto che l'intera area è sotto sequestro opposizione all'attacco De Matteis spara a zero e pone una serie di inquietanti interrogativi le primarie imprudente a Sant'Angelo scriviamo insieme il regolamento ospedale l'influenza di lagga super lavoro al pronto soccorso cimitero edicola funeraria di San Giuseppe del mini dei minimi approvato il restauro prostituzione dalla bandiera alle luci natalizie e ancora Santo Stefano di Sessanio riconosciuto come primo albergo diffuso la decisione è stata ufficializzata ieri dalla regione le prospettive il modello sarà esportato a frattura teatro il debutto a Roma tra gli applausi per la produzione il tesoro di mamma vediamo ancora furbetti ora la corte dei conti frena dopo il suicidio di uno dei dipendenti comunali di Sulmona indagati i giudici contabili hanno deciso di sospendere il procedimento si attenderà l'esito delle indagini della procura penale che non si concluderanno prima del marzo prossimo trovato con mezzo chilo di cocaina condannato angeloni si confessa sono innocente l'ex onorevole sotto inchiesta ricordiamo per l'appalto del servizio di videosorveglianza in autostrada a capistrello scossa di 2.7 sul web torna la paura celano all'immacolata finalmente i parcheggi sul Mona infine Ovidio ecco il marchio chieti impianti sportivi nuove regole ecco la rivoluzione dopo 18 anni e ancora c'è da fare presepi artigianali al Vico boom di visite per Di Iorio caccia all'uomo rapinato e trascinato in strada anziano ferito e si chiude l'anno con tanti dubbi e l'etmi il 3 gennaio cala il sipario con il concerto di Capodanno doppio spettacolo al Fenaroli per l'estate musicale frentana un 2016 nel caos con l'annullamento di due corsi orchestrali e le clamorose dimissioni del direttore artistico Luigi Piovano a Vasto in breve cade un palo dalla luce tanta paura pochi danni a Lanciano riscopriamo il presepe successo per i 150 espositori vediamo ancora a Vasto polemiche per il Sampio Flacco toni inaccettabili elezioni Ortona cambia si candida Marchegiano e il nuovo regolamento la ZTL slitta a Borgo e Lanciano Vecchia Teramo abbiamo visto i terremotati di collaterrato non lasciamo le nostre case e poi in breve vediamo i disservizi bollette scadute agli utenti Ruzzo 15 giorni di proroga e Sanità Lumaca incinta di 6 mesi aspetta ore per l'esame del sangue Figaro chiude il rebus beccaceci in vendita all'attività nel parco di via Matteotti Fondi dopo le polemiche Giulianova ancora fate un'offerta per il santuario ma è una truffa Fondi per restaurare il busto di Pagliaccetti Ancarano falciato da un'auto pirata grave Ascolano di 46 anni Val Vibrata Gas Rifiuti nasce la Multi Utility sponsor ancora ad Alba Adriatica privati per realizzare la rotatoria Abruzzo Sport vediamo velocemente il calcio di serie A Pescara tutto su Gilardino il centravanti non è soddisfatto dei primi 6 mesi all'Empoli e ha già comunicato al club di voler rescindere il contratto anche il centrocampista Buckel preme per cambiare aria serve l'ok dei toscani che in estate hanno versato 1,2 milioni e altro mercato vediamo nel mirino del Delfino pure il croato Budimir giovani oggi le fasi finali del trofeo invicta il calcio a 5 nel taglio basso Winter Cup Pescara e Acqua e Sapone test decisivo la Lega Pro Speranza Teramo 2016 l'anno peggiore bilancio negativo quello che traccia il capitano da quando veste bianco rosso questa stagione è partita male e non siamo ancora riusciti a venirne fuori e ancora la serie D ma all'Usta l'Aquila la risposta entro la settimana e con questa notizia e quindi lo sport termina la nostra segna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani ricordo puntuale alle ore 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione grazie per la visione